I pediatri dicono basta e incrociano le braccia per tre giorni. All'origine della protesta, il mancato rimborso da parte della regione per alcune prestazioni mediche, quale il tampone faringeo per streptococco, i test allergologici e pneumologici, gli screening visivi e ortopedici e il monitoraggio costante dei neonati. Già nel 2015 l'assessorato alla sanità aveva invitato i medici a limitare questi controlli, che prima venivano normalmente effettuati negli ambulatori. La motivazione era stata chiara, non ci sono abbastanza fondi a disposizione. Che i finanziamenti fossero effettivamente terminati, però, i medici lo hanno saputo solo a gennaio di quest'anno, dopo aver sforato i tetti di spesa, denuncia Gabriele Puzzolu, consigliere regionale FIUMP, Federazione Italiana Medici Pediatri, della provincia di Cagliari. Inutile, sostiene la categoria, trovare un dialogo con la regione per evitare lo sciopero. Il primo era previsto già per febbraio, successivamente sospeso a causa della parvenza di un primo accordo con l'assessorato regionale alla sanità, ma l'incontro non ha avuto esito positivo. Ieri, 12 marzo, c'è stata pertanto la prima giornata di sciopero, che durerà fino a domani. Quella dei pediatri vuole essere una lotta non solo per vedere riconosciuti i propri diritti, affermano, ma anche per tutelare la salute dei piccoli pazienti. Intanto, a Oristano, come in altri ospedali dell'isola, si avvertono i primi disagi. Al San Martino, nella giornata di ieri, in tanti hanno preso d'assalto il pronto soccorso, creando lunghe file. Il vero problema, come più volte hanno sottolineato i sindacati, è la mancanza di personale. I pediatri sono 9, ma dovrebbero essere 12, gli infermieri sono 11, ma due sono part-time e uno usufruisce della legge 104. Il responsabile provinciale del sindacato dei medici Cimo, Alessandro Percivalle, sottolinea che nel reparto di pediatria del nosocomio ristanese, da tempo si registrano carenze di organico, ma sono problemi comuni anche ad altri reparti, come radiologia, rianimazione e chirurgia. Spesso succede che quando i medici vanno in pensione non vengono sostituiti. L'ATS ha garantito di aver avviato le procedure per delle nuove assunzioni. Perché oggi si fa la raccolta differenziata? Quali benefici? È un dato di fatto. La quasi totalità degli oggetti o degli alimenti che si acquistano viene accompagnato da una confezione, che la maggior parte delle volte finisce nel secchio della spazzatura. Quanti milioni di tonnellate di rifiuti generiamo? Oggi differenziarli, così da destinarli al riciclo, significa diminuire la presenza e soprattutto l'impatto sull'ambiente e delle discariche tradizionali, in cui fino a pochi anni fa si accumulava spazzatura di ogni tipo. La Sardegna si conferma regione di riferimento del sud Italia per la buona gestione della raccolta differenziata di alluminio. Il Cial, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo dell'Alluminio, ha stilato una speciale classifica che individua i comuni e le società di gestione dei rifiuti con le migliori performance quantitative e qualitative di raccolta differenziata dell'alluminio. Sulla base di tale classifica, Cial ha assegnato il cosiddetto Premio Resa, un incentivo economico per incoraggiare su tutto il territorio nazionale modelli di raccolta differenziata intensivi e in grado di valorizzare le piene potenzialità dei singoli bacini. Tra le varie realtà premiate spica appunto la Sardegna, regione nella quale il 46% dei comuni, 172 su 377, rientra nella gestione di società o ambiti territoriali premiati per i buoni risultati raggiunti nel 2017. Fra i comuni più virtuosi si segnalano Alghero, Cagliari, Nuoro e Oristano. Un risultato che ci lascia molto soddisfatti e ci inconforta sul lavoro portato avanti giorno dopo giorno, commenta in una notta l'assessore della difesa dell'ambiente Donatella Spano. L'alluminio è una frazione ad alto valore economico e che si ricicla per la quasi totalità. Si tratta perciò di una raccolta in cui i principi di economia circolare con cui operiamo si possono concretamente realizzare. Anche la Sardegna avrà il servizio di elissoccorso. Già presente in quasi tutte le altre regioni d'Italia, sarà operativo a partire dal 1 luglio prossimo. Lo aveva annunciato a fine febbraio il direttore generale dell'azienda per la tutela della salute, Fulvio Moirano. A gennaio era terminata la gara d'appalto per l'affidamento del servizio. Le aziende ammesse erano state due, la Air Green SRL e la Babcock Mission Critical Service Italia SPA. Ma ad aggiudicarsi effettivamente l'appalto è stata la prima, già presente sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta. Saranno a disposizione tre elicotteri, che opereranno sulle basi individuate negli aeroporti sardi di Cagliari-Elmas, Alghero-Fertilia e Olbia-Costa-Smeralda. L'equipaggio sarà costituito da cinque persone, due piloti, un medico, un infermiere e l'addetto al verricello, che sarà un tecnico del soccorso alpino. Intanto giovedì 8 marzo sono iniziati test attitudinali e fisici per la formazione del personale. Sono 196 gli operatori, 81 medici e 115 infermieri, che si stanno cimentando a Calagonone con le prove preliminari di accesso al percorso di formazione. Le attività denominate giornate alpine si svolgono in stretta collaborazione con gli operatori del soccorso alpino e servono a testare la resistenza fisica, la predisposizione allo sforzo su terreno impervio, l'autocontrollo e l'attenzione generale. La verifica attitudinale, spiega il direttore generale dell'Areus, Giorgio Lenzotti, porterà all'individuazione di un totale di 80 operatori, 40 medici e 40 infermieri professionali, che dopo un adeguato percorso formativo clinico assistenziale ed aeronautico opereranno nelle tre elibasi. Nei primi tre giorni di prove, prosegue Lenzotti, sono stati valutati 82 operatori, 51 infermieri professionali e 31 medici, mentre in 13 non si sono presentati, benché convocati. Si tratta comunque di meno del 16% del totale, a dimostrazione del grande interesse che l'iniziativa ha suscitato e della grande motivazione del personale, che si è sottoposto volontariamente ad una prova particolarmente difficile e impegnativa. Saranno mille, forse il doppio. Gli ettari che in provincia di Oristano sono interessati alla coltivazione dei carciofi, altrettanti nel Sassarese, mentre nel sud Sardegna le estensioni risultano di gran lunga più estese. Ad ogni stagione si ripete il problema di un eccesso di produzione che resta sui campi e non viene raccolta. L'eccedenza poi determina una contrazione del suo valore, ma i mercati non rispondono lo stesso. Finiti i tempi dei vagoni merci che dalla stazione ferroviaria di Oristano partivano ogni giorno carichi di carciofi di solarussa, cabras, simagis e Oristano, aventi come destinazione i mercati del nord. In Sardegna non esiste un'industria di trasformazione e quando nella zona industriale di Oristano ne era stata impiantata una a carattere cooperativa, è stata travolta da un fallimento mai chiarito, per passare poi in mani private e successivamente cessare l'attività di trasformazione per assumere quella di base logistica. A trasformare sono rimaste piccole e medie imprese a carattere familiare e artigianale che coprono una fetta del mercato ma non in grado di utilizzare tutta la produzione. Mancheranno le idee per costruire un impianto di trasformazione agroindustriale ma non la fantasia per celebrare il carciofo attraverso feste e sagre, ultima in ordine di tempo, quella di sia maggiore che non si è fatta mancare nulla neppure un convegno dove il confronto è volato alto, troppo alto per lambire un campo di carciofi. Solo ieri la Confartigianato dichiarava la sua preoccupazione circa i tagli commerciali che con molta probabilità colpiranno l'industria artigiana dell'isola a seguito delle politiche estere delle Americhe che preannunciano l'inlanzamento di Dazi e della Gran Bretagna come conseguenza della Brexit. A dare una ventata di aria fresca e un po' di speranza al settore dell'industria e dell'artigianato sardo, gli incontri organizzati nell'ambito del piano Export Sud 2, il programma pluriennale di promozione e di formazione elaborato dal MISE e ICE Agenzia e finanziato con fondi dell'Unione Europea. Destinato alle realtà produttive e imprenditoriali delle regioni del Mezzogiorno, il PES II vede la Sardegna insieme ad Abruzzo e Molise tra le regioni cosiddette in transizione e destinatari di un finanziamento complessivo pari a 6 milioni e 600 mila euro. Due, gli obiettivi del progetto. Trasformare aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali e incrementare la quota di esportazione. In tutto sono 90 le imprese sarde del settore lapidei, agroalimentare e arredo e design presenti all'evento e 61 gli operatori stranieri. A partire da ieri, 12 marzo, per 13 giorni sono previsti decine di eventi, incontri e visite in aziende con tappe anche in provincia di Uristano. Il programma dell'evento è piuttosto vario e dettagliato. A dare il via, una quattro giorni denominata Le vie della pietra. Incontri tra 15 imprese del settore lapidei e 21 buyers provenienti da Finlandia, Svezia, Germania, Iran, Emirati Arabi Uniti, Belgio e Stati Uniti d'America. Le visite aziendali, previste nei giorni 13, 14 e 15 marzo, si terranno a Rosei, Olbia, Tempio e Buduzò. Dal 14 al 17 marzo, gli incontri del settore artigiano, complementi d'arredo e design, si terranno al Museo di Ocesane Orborense di Uristano. 25 le imprese sarde coinvolte e 15 gli operatori stranieri, provenienti da Germania, Bulgaria, Polonia e America. Le visite aziendali, previste il 16 marzo, si svolgeranno fra le altre a Sutro Basciu di Mogoro, Urru Maria Antonieta di Samugheo, CMA di Uristano e Techref di Simagis. Per il settore agri-food, infine, l'appuntamento è a Cagliari, Alti Hotel, dal 19 al 22 marzo. Fra le aziende coinvolte anche la 3A di Arborea, Riso della Sardegna di Uristano, Silvio Carta di Zediani. Soddisfatto, l'assessore dell'industria Maria Grazia Piras, che dichiara affiancheremo queste iniziative con nuove missioni all'estero, supportando la partecipazione delle imprese sarde alle più importanti fiere del settore. Come ogni anno, ritorna la manifestazione Monumenti Aperti 2018. Di cosa si tratta? È un'importante manifestazione culturale che permette a sardi e turisti di conoscere più a fondo il territorio, la storia e le tradizioni sarde, grazie all'apertura paese per paese di centinaia di luoghi della cultura, spesso chiusi al pubblico nel corso dell'anno, o comunque non visitabili con l'ausilio di guide appositamente formate e soprattutto gratuite. Guide che, nel caso di Monumenti Aperti, sono formate da migliaia di volontari che, con grande senso civico, svolgono questa importante mansione, dalle tante associazioni, alle scuole, di ogni ordine e grado. Una splendida occasione di conoscere così anche le genti delle diverse aree sarde. Quest'anno, tra i paesi partecipanti, anche Seneghe, Terralba e Tramazza. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, nell'isola al momento hanno aderito 57 comuni che già lo scorso anno facevano parte della Rette e 7 nuovi comuni. Oltre ai centri in provincia di Oristano, fanno il loro esordio nel circuito Cossoine, Pabilonis, Sant'Anna, Resi e Torralba. Nell'Oristanese la rassegna verrà aperta sabato 21 e domenica 22 aprile a Bauladu, Milis e Tramazza. Seguirà la tappa a Bosa, sabato 5 e domenica 6 maggio e il fine settimana successivo quella a Oristano. Sabato 19 e domenica 20 maggio ci si sposterà a Cuglieri e il 26 e 27 maggio a Uras e Terralba. Ultima tappa in provincia il 5 e 6 giugno a Seneghe. Preparare il personale degli enti locali a fornire adeguata accoglienza e competenza di fronte alle crescenti richieste legate al turismo matrimoniale. È l'obiettivo di un ciclo di seminari promosi a Cagliari, Santo Lussurgio, Tortolia e Alghero dal 14 al 16 marzo dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e realizzati dall'Agenzia In House Sardegna Imprese e Sviluppo. Il piano di lavoro denominato appunto Wedding Tourism Opportunità per i Territori Regionali prevede un incontro formativo destinato sia agli amministratori che al personale degli enti locali regionali con lo scopo di promuovere la costituzione di una rete di offerta che faccia dell'isola una vera e propria wedding destination. Durante gli incontri verrà anche presentata una ricerca realizzata dal BIC Sardegna su impatto economico, punti di forza di una location sarda e aspetti da migliorare. Per il wedding non bastano la promozione e le bellezze naturali sarde così dichiara in un comunicato l'assessore Barbara Argiolas. La coppia che decide di celebrare in una delle nostre località la sua festa di nozze deve trovare anche adeguata accoglienza e competenza anche quando si tratta di richiedere autorizzazioni, compilare moduli e affrontare i più vari aspetti tecnici negli uffici dell'amministrazione pubblica. Piromani nuovamente in azione. Nel mirino un'autovettura parcheggiata in un garage semi-interrato di un palazzo di via Beatrice d'Arborea a ridosso della questura di Oristano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Oristano e hanno prontamente domato il fuoco che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi. Si pensa che l'incendio sia di origini dolose. 3 milioni di euro per la realizzazione di impianti di trattamento degli scarti di origine animale e quanto prevede il bando pubblicato dall'assessorato dell'agricoltura che ha l'obiettivo di sostenere con quote dal 40 al 70% a fondo perduto le piccole e medie imprese nella messa in opera di strutture e nell'acquisizione di impianti per il trattamento degli scarti di macellazione e di origine animale così da consentire agli aziende del comparto di poter operare sul mercato. Le domande di aiuto si potranno presentare dal 6 aprile fino al 15 maggio 2018. 3 ore di blackout elettrico in città venerdì 16 marzo dalle 9.30 alle 12.30 per lavori urgenti da parte dell'Enel le distribuzioni di visioni infrastrutture e reti macro area territoriale centro zona di Nuoro di Stano infatti dovrà provvedere alla manutenzione della cabina di trasformazione di via Galileo Galilei. Un'azienda del settore metalmeccanico ricerca un meccanico specializzato l'annuncio si rivolge a uomini e donne che abbiano precedenti esperienze lavorative nella riparazione di autoveicoli. Sono inoltre richiesti la conoscenza degli impianti elettrici degli autoveicoli il possesso di diploma di perito meccanico o industriale conoscenze informatiche di base possesso della patente B e la disponibilità di un'auto l'azienda propone un contratto a tempo indeterminato i lavoratori interessati devono dichiarare la propria disponibilità presentandosi negli uffici di via Costa entro il 30 marzo muniti di curriculum vite. Venerdì 16 sabato 17 e domenica 18 marzo presso la sede dell'ACI di Odistano si terranno i corsi per l'ottenimento della qualifica di commissario di percorso organizzata dall'Automobile Club di Odistano in collaborazione con l'associazione ufficiale di gare le elezioni si svolgeranno in quattro sessioni tenute da un direttore di gara da un commissario sportivo regionale e nazionale e da un commissario di percorso capoposto insieme a loro ci saranno il direttore del centro di medicina sportiva Antonello Trincas e il funzionario dei Vigili del Fuoco di Odistano Marco De Mellas Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti